no eccoci qui ragazzi in una puntata di the monkey island io sono emerald e tutto il cazzo stasera ho provato qualsiasi tipo di logica con dov'è? no fermo sei incoglionito ancora indietro sinistra adesso indietro sinistra però secondo me indietro non puoi fare indietro c'è una mania quindi per me è sbagliato forse non è questo qua poi cosa che mi ha convinto di più? di questo simbolo che forse rappresenta una bussola e in più i passi quindi penso che siano tipo sarebbero tipo delle indicazioni cioè dei passaggi tipo per uno che dovrebbe camminare comunque sopporto non c'è nient'altro come entrare qua vai verso badile vediamo un po' prendiamolo allora sicuramente spunta il vecchietto quindi è inutile che che faccio? basta che faccio vai verso il campanello usiamo non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente c'è niente e alcuni idioti si chiamano la malattia nella scuola il soldi si dice che puoi camminare nel lacco stupendo cosa vuoi? su questa truffa e cosa vuoi? quanto è? dai se ne 5 pezzi te lo sono pochi dai niente 5 pezzi di 8 in do time ma hey save some treasure for the rest of us would you what else do you want? niente no i think i just like to browse ok wake me up if you need anything apriamo la porta andiamo verso di qua non ho capito bene allora ancora non sono più che cos'è sta cosa? è entrato non ho capito bene cosa sia ah una prigione verso il prigioniero che cazzo è sta cosa un topo gigante un topo mutante sono i ratti parlare con il respiro? no, grazie io non posso muovere I don't want anything but my freedom and maybe a breath mint Ah, ecco, vuole le mentina a posto. Dove tratteremo le mentina? Un pezzettino di carta, però, non me lo fa prendere, vero? No, ma che? Mentina. Vediamo. Non mi dico che ce l'ha anche messo. No, perché? No, via, via. Non è che forse ce l'ha anche il vecchietto pazzo qua. Bello. Le cose al lime. È stato troppo semplice. Oh, be my guest, fancy pants. Quindi abbiamo le mentina. Sì. Ma perché vai ten sempre dentro questa porta? Personaggino mio, non andiamo d'accordo. Allora. Vediamo le mentina. Dar. Mentina. Ah, prigioniero. Oh, grago mint. How refreshing. Thanks. So, have you come to release me? Would you happen to have a file? You think I'd be in here if I did? What I have is this carrot cake my aunt Tilly made. I sorti di karate che mi ha fatto. I can't have that if you bring me something to get rid of these rats. I can't stand carrot cake. I ratti. Ah, ma non è che i ratti sono questi... Citelli. Può essere? Hey, this is my work on the rats. Thanks. Here's the cake. Torta. Aspetta. Non mi dire che... Eccola qui. Mo' l'immaginavo perché sempre così, in qualsiasi film, c'è il cibo e il vassoio. Così dentro c'è nascosto un cacciavite, una lima. Nel caso questo qua della torta. Quindi ora possiamo andare nel palazzo quello là. Bella lì. Però ancora dobbiamo pensare a quella cassaforte. Io ho il file. Ancora. Madonna. Usa. Manuele con stile con... Trinciatrice. Dare. Coriandri di classe a... Pagliaccio armato pesante. Cosa? Tira. Labbra di cera in... Fuoco. Verso. Vai verso. Ma che c... Usa. Lì ma su. Un chitri rinoceronte. Usa. Lì ma su. Serratura. Prendi. Idolo favoloso. Vai verso. Ah. Ok. Thess-ai. That was a close one. At least I got the idol. But I'm not done with you yet. Uh oh. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. So can I. hai capo di supporto ok, mi invito a parto Ha ha, che si svolgo. miñotarlo o questa grazie per lui è nuovo sono il governo Marley il governo Elaine Marley quindi ti ti ho dato la idol grazie per lui ok, rilassi Mr. Threepwood I know why you're here believe me, you're not the first who's tried although I have to admit not many get as far as you have capri sacripanta ehm my lookout told me of your arrival I wanted to meet you ever since I heard your fascinating name tell me, Guybrush why do you want to be a pirate? you don't look like one your face is too... troppo sweet HRTR, vai no, no, no well, you're obviously not in the mood for idle chit chat, are you? mmm, perchè ho risposto I suppose you've got many more exciting things to do? no, 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 perchè no, perchè no, perchè merda perchè cazzo cosa p... ok ma it the mother fuck, cos'era? e no please do I really wish I knew how to talk to women ok ok quindi now se dobbiamo fare deve trovare qualcuno che... where do you think you're going through through wade through all the post Questa è un retropod. Questa è un retropod. Pantaloone pal! Voi giorni di affrontare a Mele Island sono finito! I miei plani per il Governo sono molto più importanti e molto più vicino a completare per rispondere a lasciare un pirata che tu iniziare! So long, Mr. Spice Cake o Droop Face, o qualsiasi nome! ... ... ... ... ... Naturalmente noi abbiamo un secco ... 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 ahah un momento, us裂 sono fottuto sembra affilato ecco, ho riuscito a maffilato tutto cosa ho affilato allora, sì ma io metto così e tendo la corda faccio usa no, niente tira apri momento guarda qui c'è il caldo ecco no, non fai così perché non, ho bisogno di farlo potremmo potremmo riuscire potremmo potremmo ma cosa mi importa il mio figlio non sarà non ci sarò sto mettendo eh, potremmo 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 Ah, ci vuole da... non mi dire che cosi prendi. Gouverneur! Hey, tu puoi parlare. Chi si sa? Cosa ti faci qui? Come per finire il lavoro? Non, io veni qui per salvare la tua vita. Fester non si tratta di fare le mie ordini quando ti senti là. Tu veni qui per salvare la mia? Non credo che tu mi piace. Beh, il nostro primo incontro è un pochino. Tu sembra di avere problemi formando sentenze complete. Questo gioco, a volte, diventa come... ...un pirata. Un momento, ora finisco la frase. Io vorrei avere Guybrush. Oh, governore. Oh, Threatwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Love Muffin. Bucca Cuts. Sugarboots. Honey Pumpkin. Plunderbunny. Kiss me. No. No. We mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? No. No. It's not that at all. It's just that many of these pirates have made advances towards me. And to avoid hurting their feelings, I've always told them that my father may be promised never to fall in love with a pirate. If they see us together, they'll know I was lying. Ok, then. Let's go to your place. Ok. But finish your trials first. I don't want you to be... ... 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 E' la cosa giusta Dove che devo andare? Ok Comunque ragazzi allora Questo episodio lo finiamo qua Oddio ancora questo Allora questo episodio lo finiamo qua Spero che vi sia piaciuto E vi saluto E ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti